Il ruolo della CISL nelle trattative e soprattutto per quello che riguarda la Previdenza oggi qual è? Siamo riusciti a convincere dopo una lunga trattativa che è durata praticamente un anno e mezzo di fatto a rimettere in discussione la legge Fornero, in particolare sui lavori usuranti. Abbiamo ampliato la platea dei lavoratori usuranti da 15 categorie a 19 categorie riuscendo a costruire un'idea forte che non era presente nella Fornero, che i lavori non sono tutti uguali, quindi che ovviamente chi lavora su un'impalcatura non può avere lo stesso trattamento di chi magari lavora in luoghi più protetti. Quindi aver già raggiunto questo obiettivo per noi è motivo di soddisfazione. I delegati CISL di Toscana ed Umbria si sono ritrovati proprio ad Arezzo al Teatro Tenda per una assemblea interregionale. I temi principali, quelli della prevenzione, dell'occupazione e lo spettro della crisi che ormai sembra allontanarsi. La crisi si sta allontanando, c'è una ripresa anche in Toscana, c'è una ripresa forte dell'occupazione, sicuramente la Toscana ancora ha delle macchie scure e delle macchie chiare. L'obiettivo e il lavoro che bisogna fare è far sì che la ripresa sia omogenea di tutta la Toscana. Qual è l'agenda delle vertenze, diciamo quelle più urgenti che avete in Toscana? Ma quelle più urgenti più che aziende individuali sono proprio zone di territorio. Abbiamo la zona di Massa, la zona di Livorno, la zona di Pionbino e le aree interne come può essere quella della Miata oppure le zone interne del Grossetano. Queste sono le zone più colpite. La zona che va da Arezzo a Lucca invece è la zona della Toscana Felix, cioè la Toscana che tira. Ad Arezzo ci sono però ancora aperte molte vertenze dalla Cantarelli alla Memar alla Pavimental che probabilmente potrebbe mettere sull'astrico altre 13 famiglie a retine. 3.000 dipendenti sono a rischio lavoro per quanto riguarda il lavoro in house che l'autostrade praticamente non ci può più dare perché con le nuove leggi sul lavoro in house che sono stati cambiati dall'80 a 20, che prima era al 60-40, praticamente non ci viene più dato il lavoro in house, va tutto in gara d'appalto e noi rischiamo il posto di lavoro. Sono stati presentati diversi emendamenti, non siamo riusciti a farli inserire dentro la legge finanziaria, ora stiamo cercando alla Camera di rintrodurlo come ultima chance perché ce l'hanno tolto anche dal mille proroghe.